L'inserimento del tondo non è mai stato più facile. Il verricello, optional, è dotato di un dispositivo di blocco che permette il fissaggio dell'estremità di un nuovo rotolo, e ne consente il trascinamento attraverso i vari guidafili degli aspi, fino all'imbucco della macchina. Il raddrizzatondo portatile, optional, è consigliato nel caso in cui si faccia uso continuativo di diametri di grandi dimensioni, o nei casi in cui i rotoli siano di scarsa qualità. Grazie.